in un piccolo paesino il figlio parla col padre papà 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 dimmi ho conosciuto una nuova ragazza mi ci sono messa insieme e chi sarebbe è rosina la figlia del benzinaio oh porca puzzona no guarda senti c'è stato un periodo che con la tua mamma non non andava e una sera sono uscito ho conosciuto la mamma di rosina e praticamente rosina è tua sorella dopo una settimana il figlio torna papà papà ho cambiato ragazza e ne ho conosciuta un'altra e chi sarebbe è barbara è la figlia del barbiere ma porca puttana no 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 ricordi quel periodo che con la mamma non andava beh per un po di giorni ho frequentato la mamma di barbara bensì insomma barbara è tua sorella dopo un po di giorni ritorna ancora il figlio e gli fa papà papà stavolta ho cambiato di nuovo e ho conosciuto teresa e chi è teresa è la figlia del dottore ma porca puttana no del dottore no ricordi quel periodo ben insomma una sera sono uscito con la sua mamma e beh teresa è praticamente tua sorella il ragazzo tristissimo da una parte se ne accorge la madre un giorno e gli va davanti e gli fa ma ma che ti è successo è che papà in due mesi ho conosciuto tre ragazze e mi ha detto che tutte erano praticamente mia sorella ma lascialo stare quel coglione che non è nemmeno tuo padre se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis